novantatré novantatré ottan dieci 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 ciao ciao grazie di essere qui 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 con me oggi oggi farò un video che non ha un contenuto ve lo dico e ti penso proprio questo il bello perché è un video fatto per staccare la mente completamente spegnerla e rilassarsi perché non sempre la mente deve lavorare e penso che molti di noi in realtà soffrino di iper pensiero di problema quindi oggi potrei svuotare la mente o potrei se vuoi contare con me infatti vi ho letto dal titolo che questo video è un countdown quindi un conto alla rovescia da 100 a 0 fatto con dei sussurri vicini al microfono ovviamente con un pochino di visual trigger ogni numero sarà accompagnato sarà scritto in un certo modo ad esempio magari il 100 lo scrivo così il 99 così il 98 così il 98 insomma e tutto qui veramente il mio scopo è rilassarvi il mio scopo è farvi prendere qui 10-15 minuti non so quanto sarà di relax totale di momento per voi ditemi se questo contenuto vi può piacere e mettete mi piace sì vi piacerà e dimmi anche quale visual trigger per quelli che farò quale movimento vicino alla telecamera vi piacerà di più che magari lo porterò anche un altro video per me siamo in troppo lunga cominciamo ah unica cosa in più vi ricordo che per il mese agosto usciranno video solo il lunedì e non il lunedì e il giovedì per permettere anche a me di rallentare un pochino e di tornare a settembre più carica che mai ok cominciamo dal del cento 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 novanta no novanta no no novanto 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 novanta 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 sete no novanta novantacinque 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 novanta novantuno novantuno novanta 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 set otanta sei otanta sei otanta chico otanta quattro otanta tre otanta tu otanta tu otanta 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 setanta nove setanta 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 sei setanta cinque setanta setanta uatro set-a-tah-tre set-a-tah-tah set-a-tah-tah set-a-tah set-a-tah set-a-tah-tah set-a-nove set-a-tah 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 Sessantacinco Sessantacuattro Sessantatres Sessantacinco uno sei sette 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 cinquantanove cinquantotto cinquantotto cinquanta sette cinquantasei cinquantacinque cinquantaquattro cinquantatré cinquantattré 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 Quarantanove Quarantotto Quarantosette Quarantasei Quarantasei Quarantacinque Quarantacuattro Quarantatré Quarantat Quarantat Quarantacuatt Quarantacuatt Trentanove Tre Do Do Tre Sette Sette Tre 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 vint자 vinti nationali vintu alt powiedzieć vinti letter ventisei venticicque ventiquattro quattro ventitre ventidue due 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 ventuno venti 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 quattordici tredici tredici dodici 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 dieci 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 nove otto sette sei cinque quattro quattro tre due uno uno zero 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 chiudi gli occhi se non li hai ancora chiusi chiudi i tuoi bei occhietti e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio 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 si aggiunga l'ora di di abbassare le luci e augurarti augurare a te a te a te una buona buona buonanotte 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 DREAMS Bonne nuit Faites show Buon notte ai piccoli pasticcini a te mangio un bacione che li spera